Non abbiamo prodotti nuovi quest'anno, ma l'esperienza con questi che sono stati presentati l'anno scorso è stata gran positiva, perché gli ambiti in cui hanno trovato strada, hanno trovato spazio, abbiamo scoperto che c'è molta attenzione per un controllo della direttività parecchio accurato, per una neutralità timbrica che spesso non sembra essere in cima alla lista delle priorità dei progettisti e degli utilizzatori. Per cui sia pure con i nostri numeri non enormi, con le nostre modeste aspettative di posizione sul mercato, per noi l'IS è stata una bella scoperta l'anno scorso e si conferma tale anche quest'anno. Un righello acustico che permette di calcolare su un disegno in scala 1 a 100 l'attenuazione del livello seduta stante, oltre ad avere un'altra scala in lunghezza d'onda che permette immediatamente di identificare l'influenza dei vari ostacoli alle diverse frequenze. Contiamo di usarlo anche nei nostri seminari dove la forma arrotondata fa anche sì che per funzioni disciplinari a coloro che meno si impegnano possano impartire una sonora lezione senza conseguenze particolarmente nefaste.